Il martinismo e l'ordine martinista di Francesco Brunelli Louis-Claude Saint-Martin e Jean-Baptiste Louis-Germont, i discepoli di Martinez de Pesquelli Il discepolo più noto di Martinez e a cui si rifà il martinismo moderno e larga parte di quello contemporaneo è Louis-Claude Saint-Martin, nato nel 1743, creato Cohen nel 1768 e Ro-Croix il 17 aprile 1772. Ufficiale si congeda dall'esercito nel 1771 per andare a vivere presso Martinez e servirlo come segretario In tal modo ebbe tutte le possibilità per conoscere l'uomo e la sua dottrina a cui resterà sempre fedele Nel finire del 1773 e nel 1774 Saint-Martin trascorre in piena attività di istruzione oltre un anno insieme a Louis-Germont a Lione Prepara un programma di conferenze che inizia il 7 gennaio 1774 per i fratelli Cohen lionesi e di cui restano testi ed alcune note Dello stesso periodo è il suo primo libro, Degli errori e della verità discusso e progettato insieme a Vigermont in cui viene esposta con maggior chiarezza la dottrina di Martinez A Lione rimarrà fino agli inizi del 1774 poi inizia a viaggiare distaccandosi da Vigermont e dalla sua personale evo o involuzione Il distacco matura verso il luglio del 1775 e Saint-Martin dichiara che non potrà seguire Vigermont nei suoi interessi verso la stretta osservanza templare Ugualmente Vigermont non potrà seguire Saint-Martin nella sua evoluzione mistica Saint-Martin infatti progredirà nel suo andare accentuando il suo indirizzo mistico e speculativo con la scoperta di Bohème tramite Carlotta de Boecklin e di Salzman Egli stesso infatti scriverà più tardi È a Martinez de Pesqualli che io debbo il mio ingresso nelle verità superiori ed è a Giacomo Bohème che debbo i passi più importanti fatti in questa verità Volendo con ciò significare che in Bohème aveva trovato una via ed una tecnica congeniale alla sua struttura psicofisica e al suo gusto per la speculazione via questa che più tardi venne chiamata via interiore o via cardiaca Il 14 luglio del 1790 18 anni dopo la sua ammissione nei Cohen si ritira da tutte le società alle quali fino ad allora aveva appartenuto per seguire in piena libertà le sue idee e la sua tecnica Tuttavia nella lettera di dimissioni ancora protesta la sua fedeltà alla prima iniziazione ricevuta da Martinez Ma di che fedeltà si tratta? Ovviamente di fedeltà alla dottrina della reintegrazione perché, abbandonata la disciplina rituaria seguita per tanti anni si getta a capofitto nelle dissertazioni filosofiche sull'esperienza religiosa Egli dirà La vera teorgia non vuole altra fiamma che il nostro desiderio altra luce che quella della nostra purezza Ed ancora Il solo tesoro inviato al mondo è ciò che Bohème ha pubblicato sul Cristo che per lui è l'inizio e la fine di ogni rivelazione San Martin ha operato teurgicamente e ha avuto le sue manifestazioni In una lettera a Kierkeverger quindi molto tempo dopo aver abbandonato le pratiche scrive in risposta alla domanda se i discepoli di Martinez ricevettero la prova di una comunicazione con la causa attiva ed intelligente cioè con lo stesso riparatore il Cristo sul piano fisico Quanto alla mia testimonianza personale non potrebbe avere il suo pieno ed intero effetto Tuttavia poiché io credo di parlare con un uomo ponderato calmo e discreto non vi celerò che nella scuola a cui ho appartenuto ormai da 25 anni le comunicazioni di ogni genere erano numerose e frequenti ed io come molti altri ho avuto la mia parte e in questa parte erano compresi tutti i segni indicativi del riparatore orbene voi non ignorate che il riparatore e la causa attiva sono la stessa cosa Bene malgrado ciò Saint-Martin abbandona le pratiche teorgiche anche dopo aver ricevuto i segni del riparatore perché si è spostato fuori del centro attivo ed occulto tale spostamento avvenuto dopo 18 anni va ben analizzato in quanto la problematica che esso suscita è rilevante e merita di essere osservata in una luce giusta cosa questa che finora non è stata fatta il martinismo nella sua essenza è quello che ho classificato come primitivo se lui Claude Saint-Martin ad un certo punto della sua vita sembra deviare verso un misticismo ed un cristianesimo che sempre più si manifesta nelle sue accezioni profane ebbene il martinismo di Saint-Martin valido è quello primo e non il secondo per tali ragioni è evidente che nella sua opera letteraria e filosofica vi siano molti elementi positivi e validi così appaiono gli scritti laddove l'influenza di Martinez è palese valide molte sue osservazioni molte sue riflessioni molti appunti di tecnica ma nella ricerca che abbiamo intrapresa della validità e della filiazione iniziatica del martinismo contemporaneo dobbiamo pur rispondere se Saint-Martin ha trasmesso una sua iniziazione dopo aver abbandonato tutti i gruppi iniziatici cui apparteneva o se ha continuato a trasmettere un'iniziazione rituale qual è questa iniziazione Robert Ambellan così ha scritto Saint-Martin ha trasmesso a dei rari discepoli scrupolosamente scelti per la loro intelligenza per la loro erudizione per il loro alto spiritualismo il grado di superiore incognito che egli aveva ricevuto dal suo maestro Martin S prima di andare a morire sotto i tropici e ciò facendo egli usava il diritto multisecolare che qualsiasi iniziato ha di trasmettere prima della sua morte il deposito occulto il che non è solamente un diritto ma anche un dovere se egli ha creduto bene diffondere in una sola cerimonia in una sola iniziazione la scintilla proveniente dal focolaio dei Cohen e la scintilla proveniente da un ordine più antico nessuno lo potrebbe biasimare perché è necessario che un uomo di carne si trovi all'origine di ogni ordine iniziatico Robert Amadou a sua volta dice se Saint-Martin ha creato l'iniziazione martinista nessuno gliene può contestare il diritto se l'iniziazione di Saint-Martin porta con sé l'influsso del Cosmopolita o di Martinez questo è un fatto accessorio perché l'originalità di Saint-Martin è tale e tale alla sua personalità che se ricoprono e rinnovano l'apporto anteriore Saint-Martin ha potuto servirsi di un'iniziazione già praticata per iniziare i suoi discepoli così come ha potuto nominarli superiori incogniti senza dar loro quelle prerogative amministrative ed onorifiche primitivamente unite a tale titolo ma egli ha trasmesso e ciò è essenziale la concezione che egli aveva della iniziazione a superiore incognito questi due studiosi qualificati del martinismo convergono quindi nel dare una risposta positiva al nostro interrogativo ma tale risposta è anche suffragata dall'esistenza di una iniziazione martinista contemporanea non proveniente né da papius né da chambuso ma di origine diretta dal martinismo russo in russia visse e fiorì un martinismo ma di quale martinismo si trattava è noto come l'altro discepolo di martinèz de pesquelli visermont dopo la scomparsa del maestro ritornò alle sue tecniche e alla sua via massonica trasferendo nella massoneria gli insegnamenti segreti che gli aveva ricevuti nella sua qualità di rucroa in effetti i cavalieri beneficenti della città santa furono una creazione di visermont essi sotto nuova forma trasmettevano la dottrina e le tecniche insegnate da martinèz è nel 1772 che visermont inizia il grado di coen dei massoni il fratello jacques paganucci Paris Duluc ed altri a seguire durante l'inverno dello stesso anno tramite i suoi contatti con una loggia di strasburgo apprende che in Germania esisteva un ordine che presentava tutte quelle garanzie necessarie che fino ad allora non sembravano essere appannaggio della massoneria francese le cui fazioni si ostinavano a combattersi reciprocamente chiese di esservi ammesso si trattava dell'ordine della stretta osservanza templare e ciò si realizzò nel giugno del 1774 quando il barone Vaila giunse a Lione per trasmettere regolarmente le diverse iniziazioni e costituire quella che fu denominata seconda provincia dell'ordine e chiamata di Alvernia ma la stretta osservanza templare era travagliata dalla problematica concernente il contenuto dei gradi segreti che di segreto in effetti non contenevano niente e dalla problematica esistenza di superiori incogniti rettori dell'ordine che malgrado ricerche polemiche e discussioni non si erano rintracciati pertanto la situazione era tale che i detentori di tradizioni esoteriche non potevano che approfittare per colmare il vuoto esistente in un ordine di grande diffusione e di grande prestigio quale la stretta osservanza templare e Vigermont riempì quel vuoto nell'ottobre del 1778 venne convocato il convento delle Gallie in quel convento furono creati i cavalieri beneficenti della città santa che altro non erano che dei Cohen in questo modo a perpetuare la propria esistenza entro un ordine massonico non erano più i cavalieri templari ma l'ordine degli eletti Cohen Vigermont Roacoa membro del tribunale sovrano dell'ordine degli eletti Cohen in possesso di tutti i poteri iniziatici ad esso inerenti è l'artefice della trasformazione ed il creatore della massoneria rettificata che divenne il veicolo dei cavalieri beneficenti della città santa ecco infatti la serie della massoneria rettificata prima classe apprendista compagno maestro maestro scozzese di santa andrea seconda classe scudiero novizio cavaliere beneficente della città santa terza classe segreta cavaliere professo cavaliere gran professo in una comunicazione comparsa su iniziazion 1960 numero 3 è detto il codice del 1778 dei cavalieri beneficenti della città santa ci dice che l'ordine interiore non comprende che una sola classe divisa in due gradi gli scudieri novizi e i cavalieri beneficenti della città santa sottolineiamo ciò in quanto ci troviamo di fronte alla seguente affermazione nell'ambito della massoneria i cavalieri beneficenti della città santa costituiscono un ordine e il rituale di ornamento ci dice che questo ordine è qualche cosa di indipendente da quella vi è dunque un ordine massonico secondo l'espressione tradizionale con il suo carattere universale internazionale sincretista e nel suo seno vive e si sviluppa un altro ordine quello degli eletti coen di martinès nel convento di lione o delle gallie 25 novembre 10 dicembre 1778 si stabilì primo di dare una nuova direzione e un nuovo stop all'ordine sostituendo alla gerusalemme terrestre obiettivo di riconquista templare la gerusalemme celeste e ciò conforme all'insegnamento di martinès de pasquelli questa variazione di obiettivo da materiale a spirituale dava all'ordine quel contenuto che fino ad allora gli era venuto a mancare secondo di riformare e modificare rettificare in base a tali decisioni i rituali e le istruzioni cosa questa che vigermont fece di buon grado creando la famosa classe segreta dei professi i risultati di tale congresso vennero condensati nel nuovo codice delle logge rettificate di Francia che vide la luce nel 1778 conseguenza indiretta di questo furono i risultati del convento di Wilhelmsbad che iniziò il 14 luglio 1782 sotto la presidenza del principe Ferdinando di Brunswick convocato per risolvere tutte le questioni pendenti della stretta osservanza templare ove le tesi e la riforma proposta da Ouijermont fu accettata in pieno è in questo modo che nella massoneria tedesca scandinava svizzera e russa furono introdotti i cavalieri beneficenti della città santa e la loro classe segreta veincolante la dottrina martinista in questa maniera tuttavia sorsero degli equivoci e grossi perché sia gli studiosi che gli storici parlando di martinismo in genere intendono i cavalieri beneficenti della città santa e cioè il willermozismo è ben vero tuttavia che gli storici sono giustificati appieno dal fatto che a loro volta nei circoli willermozisti erano studiati e commentati i libri di Louis-Claude Saint-Martin ed accettate le dottrine propugnate da quest'ultimo così che se la filiazione era willermozista la dottrina era soprattutto quella di Saint-Martin quando la rivoluzione determinò la fuga dalla Russia di numerosi appartenenti alle società iniziatiche rifluì in Europa anche questo tipo di martinismo che è un misto quanto affiliazione tuttavia pare accertato che alcuni dei principali maestri martinisti russi possedettero una doppia affiliazione sia willermozista sia direttamente martinista cioè di Lucro de Saint-Martin lo spazio non ci consente di prolungarci oltre questa nostra affermazione che vogliamo tuttavia suffragare da un solo dato assai importante nel libro di Cetaoui dal titolo Kaiostro e Katoindu si apprende che in Russia esistevano capitoli di cavalieri beneficenti che costituivano l'ottava provincia dell'ordine il libro di Lucro de Saint-Martin dal titolo degli errori e della verità tradotto nel 1783 suscita un vero entusiasmo lo si leggeva in francese dopo molti anni e numerosi russi erano stati all'estero in relazioni personali con il filosofo incognito a Londra a Strasburgo a Roma incontrò Selicin Cernikov Vorontsov Zinoviev Razumovsky Stravowski eccetera molti di loro riportarono in Russia il ricordo dei suoi insegnamenti tuttavia i martinisti russi non furono che dei lettori e degli ammiratori e non degli iniziati di Saint-Martin ad eccezione di Zinoviev e del principe Alexei Borisovich Galicin che secondo Longinov fu iniziato in forma regolare dallo stesso filosofo incognito in Svizzera verso la fine del 1780 strave and grazie Grazie a tutti